Ha ottenuto un successo oltre le più rose aspettative lo screening sulle patologie della tiroide effettuato presso gli ambulatori di endocrinologia dell'azienda sanitaria vibonese di moderata Durant. E di questo i Lions e il Leo Club di Vivo Valencia ne sono fieri, perché fa parte della loro missione offrire alla popolazione un servizio concreto, di cui forse non avrebbero potuto usufruire. Sono delle iniziative che in passato abbiamo fatto e che di solito raccoglievano un determinato quantitativo di pazienti, quest'anno abbiamo ampiamente superato le più rose aspettative, prevedevamo un successo di questo tipo, tant'è vero che abbiamo attivato non uno, non due, ma tre ambulatori ecografici con l'aiuto di altri colleghi e ci siamo attestati in questo momento circa 400 prenotazioni. Questa mattina ci siamo necessariamente dovuti fermare perché l'entità delle prenotazioni non ci consente di andare oltre questo numero. E' proprio questa la funzione di un club service. Sì, i Lions insieme a Leo che si è fatto promotore di questa iniziativa, i club di Vivo hanno creduto in questa iniziativa, quella cioè di offrire alla cittadinanza un servizio di screening così importante, sfruttando quelle che sono le eccellenze presenti sul nostro territorio con l'aiuto e il supporto tecnico sia dell'Ajus ma soprattutto dell'Eo che è il promotore primo di questa iniziativa. Per fortuna anche la cittadinanza ha risposto in una maniera assolutamente positiva a questa nostra iniziativa che per fortuna avrà il compito di aiutare tante persone anche a trovare quelle che possono essere delle patologie. Noi cercheremo quindi con la nostra iniziativa e il nostro supporto che daremo alla cittadinanza quindi di fare un vero e proprio service nel vero senso della parola, cioè un servizio per la popolazione. Non è la prima volta che viene fatto uno screening sulle patologie della tiroide ma questa volta la FLUS è stata veramente notevole a significare che queste problematiche sono molto presenti sul territorio. Questa è un'iniziativa eccellente da parte dei Lions che ha ovviamente sposato anche l'ASP perché ci ha consentito di poterla realizzare nei locali di moderata Durant dove io che sono la titolare dell'ambulatorio di endocrinologia posso constatare quanta diffusione di questa patologia c'è. Questo screening serve proprio a individuare in una fetta di popolazione, abbiamo cercato di farlo in numeri anche come diceva il dottore Tallarico abbastanza rilevanti, patologie nodulari che quindi diciamo anche hanno importanza e rilevanza dal punto di vista anche della prognosi che comunque nel campo della tiroide è sempre una prognosi diciamo benigna ma è importante individuare anche patologie più importanti e più serie.